Sono 16 i comuni veneziani che sabato 8 e domenica 9 giugno saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale per un totale di 38 candidati. Due, Spinea e Portogruaro, escono da un commissariamento e con Scorzè e Noale superano i 15.000 abitanti. Nel caso quindi non ci fosse un candidato che al primo turno superi il 50% più uno dei voti, andranno al ballottaggio due settimane dopo. Gli altri comuni al voto sono Annone Veneto, Camponogara, Ceggia, Cona, Concordia, Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Stra, Teglio Veneto e Cintocao Maggiore. In questi due ultimi casi i cittadini troveranno nella scheda elettorale una sola lista e un solo candidato. La sfida in questo caso sarà l'affluenza alle urne. Secondo la normativa il numero dei votanti infatti non deve essere inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, pena il commissariamento. Si voterà però anche per le elezioni europee. L'Italia elegge 76 eurodeputati scelti in cinque circoscrizioni. Il Veneto è nella circoscrizione nord-est che elegge 15 eurodeputati. Si possono esprimere fino a tre preferenze per i candidati al Parlamento europeo collegati alla lista e non è permesso il voto disgiunto. I seggi saranno aperti sabato dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Grazie a tutti.